Nel primo trimestre 2024 ancora non si vedono gli effetti del taglio dei tassi di interesse effettuato da BCE. Questo perché i tassi risultano ancora essere elevati e il contesto internazionale e nazionale caratterizzato da un'elevata incertezza. Certamente questo contesto non favorisce il credito alle imprese italiane, tant'è che noi abbiamo osservato che nel primo trimestre 2024 il credito rispetto al periodo precedente, stesso periodo dell'anno precedente, diminuisce del 7,5%. Questa è una delle evidenze che emerge dall'osservatorio sulle imprese realizzato da CRIF che periodicamente dà una fotografia di quello che è il mercato, le tendenze di mercato sulle imprese stesse. Ecco, è in questo contesto che la relazione, la conoscenza delle imprese diventa sempre più un elemento fondamentale. E' come avere questa conoscenza? Attraverso l'utilizzo dei dati ed è per questo che CRIF mette a disposizione una piattaforma di marketing intelligence che Credem ha adottato. Oggi per parlare di questo tema, di questi temi, ho piacere di avere qui con me Alberto Bianchini, responsabile marketing e customer analytics di Credem. Grazie Alberto per aver accettato l'invito. Grazie a voi dell'invito. Alberto, nel contesto che ho appena descritto, puoi darci la tua visione, quella della banca, sul mercato delle imprese in questo momento e anche raccontarci come nasce la collaborazione con CRIF? Allora, diciamo che il 2024 da un punto di vista di andamento del mercato evidenzia un certo rallentamento degli investimenti da parte delle imprese dovuto principalmente al costo del denaro particolarmente elevato che si è proseguito nel 2024 rispetto al 2023. E' però un trend che vediamo in diminuzione, quello del costo del denaro, quindi noi riteniamo che nei prossimi mesi e il 2025 sarà un anno di ripresa forte degli investimenti, soprattutto trainato anche da quelli che sono gli incentivi fiscali di transizione 5.0 e transizione 4.0. Quindi un mercato dinamico che vediamo in forte espansione e che necessita da parte nostra una forte base dati per poter leggere correttamente i bisogni delle imprese e poter intervenire velocemente su quelle che sono le loro esigenze primarie che vediamo prevalentemente collegate a internazionalizzazione, corsa all'innovazione e digitalizzazione. Per questo abbiamo trovato in Margo una piattaforma di marketing intelligence particolarmente efficace perché ci dà un range di informazioni e un database molto profondo sulle imprese italiane sia per quanto riguarda i nostri clienti sia per quanto riguarda il mercato potenziale. Alberto, chiaro qual è il contesto e come nasce la nostra collaborazione? Puoi darci anche un feedback su quelli che sono stati i benefici che avete visto utilizzando Margo e soprattutto se hai qualche feedback da parte della rete? Sempre spunti molto interessanti secondo me. Allora, diciamo che in primis utilizziamo molto la piattaforma per quello che sono le nostre esigenze di carattere strategico quindi per la pianificazione di mercati, geografie, settori su cui pianificare azioni di sviluppo sia sulla base clienti sia sul mercato potenziale. In secondo luogo utilizziamo Margo anche come piattaforma operativa per interloquire con la rete quindi per distribuire delle iniziative commerciali e anche per monitorare il livello di utilizzo e di incontro con la clientela. Quindi due esigenze che sentivamo come molto importanti e che Margo ci consente di raggiungere. Dal punto di vista della utilità che ne ha accolto la rete diciamo che prevalentemente oltre ai dati di bilancio che per noi sono un elemento essenziale per la valutazione creditizia delle imprese molto importanti sono quelli che sono gli score di propensione quindi quelli relativi ai bisogni delle imprese su internazionalizzazione, innovazione, trend relativi al mondo ISG che ci permettono di cogliere efficacemente i bisogni delle imprese in anticipo relativamente al mondo degli investimenti. Abbiamo avuto anche dei benefici diretti dall'utilizzo di Margo perché siamo riusciti a creare iniziative commerciali in tempi più brevi quindi abbiamo guadagnato in efficienza ma soprattutto anche in efficacia perché i nostri gestori, i nostri commerciali riescono a cogliere i bisogni più velocemente delle imprese sia dei clienti sia dei prospect. Alberto grazie per la chiacchierata che abbiamo fatto e per gli spunti che hai portato sul tavolo. Grazie a te per l'invito, grazie a te per la chiacchierata che abbiamo fatto è stata molto interessante anche da parte mia. La piattaforma di market intelligence di CRIF supporta la crescita del business dei player finanziari mettendo a disposizione strumenti di targeting analisi e consentendo di andare a cercare sul mercato quelli che sono i prospect da contattare piuttosto che dando nuove viste sulle aziende già clienti dei player finanziari stessi. Come lo fa? La piattaforma integra tutta una serie di dati da fonti dati pubbliche piuttosto che dati di contatto e analytics sviluppati da CRIF per dare la fotografia più accurata possibile sull'azienda da andare a contattare. Alberto ne ha parlato prima, la piattaforma ha una vastità di informazioni, ma in particolare Alberto ha posto l'accento su alcuni score e sulla propensione ha parlato di digitalizzazione, internazionalizzazione, DSG. Ecco tutto questo viene fatto anche grazie ai motori di intelligenza artificiale che la piattaforma ha al suo interno. Seguendo quello che dice Alberto vorrei porre l'attenzione su quelli che sono alcuni score anche più innovativi che possiamo trovare nella piattaforma come lo score di stagionalità che va a individuare il momento dell'anno, appunto la stagionalità, in cui un'azienda può avere più bisogno di credito o di tirare le proprie linee a breve termine. Altro tema molto importante è quello delle analisi di similarità, cioè quella funzione che permette al player finanziario di andare a individuare dei prospect sulla base delle aziende e clienti che ha già in portafoglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.